In un momento molto complicato anche per il cinema, in un momento in cui i film vengono rinviati, il film di Leonardo Pieraccioni, Il Sesso degli Angeli, che sarebbe dovuto uscire al cinema il 10 febbraio, invece uscirà il 21 aprile, periodo sicuramente magari migliore dal punto di vista del Covid, speriamo in una situazione meno grave, ma di solito per il cinema italiano e in generale per il cinema e gli incassi anche meno prolifico alle volte. Probabilmente rinviato anche i vicini di casa, il nuovo film che stavo aspettando molto dopo aver apprezzato per tutta la vita, di Paolo Costella, che sarebbe dovuto uscire oggi, ma Locandine non ce ne sono. Non ci sono state notizie, quindi credo che non sia uscito, dopo controllerò meglio, ma credo che non sia arrivato da me né negli altri cinema. E allora in un periodo in cui tanti film vengono rinviati, io devo ancora vedere America Latina dei Fratelli di Innocenzo, perché sto per terminare una settimana di quarantena senza aver avuto nulla, ma questa è l'Italia, è un paese nel quale in classe tua, a scuola, ci sono due positivi, tu non li guardi manco in faccia, ma vai in quarantena, perché è un paese meraviglioso questo, quindi si fa il tampone e si sta in quarantena. Ma chiusa questa parentesi, finalmente sta finendo questa quarantena, mi sono fatto un paio di regali. Mi sono fatto due regali, un nuovo unboxing, un mini unboxing, perché sono, se non erro, 5 DVD. Dico se non erro, perché a volte poi in diretta mi accorgo che ce n'è uno in più, uno in meno, non ci si capisce mai niente, ma dovrebbero essere 5, quindi dopo l'unboxing dedicato al mio amico Cinefatti 86, che tra l'altro mi ha regalato un altro film, e tra poco ve lo faccio vedere, ma non lo scarto perché l'avevo già ovviamente tolto dalla confezione qualche tempo fa, unboxing dedicato esclusivamente al principe Antonio De Curtis. Totò, il grandissimo Totò, attore comico, artista straordinario, che amo follemente, che non smetto mai di scoprire, di approfondire, e che insomma nella mia collezione un pochettino manca, perché avevo prima di questi film che ho acquistato Capriccio all'italiana, Totò e Carolina, che ho rivisto proprio ieri, film del quale sono particolarmente innamorato, di Mario Monicelli, film che dovette soffrire anche a causa della censura, ma che alla fine uscì due anni dopo la realizzazione 1953-1955 nelle sale italiane. Oggi abbiamo, grazie a Dio, la versione originale, senza stupide e inutili censure. Io vado a prendere il DVD di Danilo, ve lo faccio vedere, lo ringrazio anche oggi, e poi si parte con l'unboxing. Ricordati di me, quando ridi, quando sei da sola, fidati di me. Beh, non c'entra niente perché non si sente neanche un attimo la canzone di Antonello Venditti in questo film, si sente Anna come sono tante, Anna e Marco si sentono, insomma altre canzoni bellissime, ma al di là di questo è un film bellissimo di Gabriele Muccino, Ci voleva nella mia collezione, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Nicoletta Romanoff, Gran Belcast, una grande Monica Bellucci anche sorprendente, ma chiusa questa parentesi, grazie Danilone, partiamo con l'unboxing di Totò. Eccoli qua i due pacchi, uno e due, e allora andiamo ad aprire il primo, uno mi è arrivato ieri, uno oggi, ecco, sono partito da quello meno corposo, ci sono due DVD qui. Ok, allora, Guardie e Ladri, per la regia di Mario, Monicelli e Steno, bellissima questa copertina perché veramente secondo me è rivisitata benissimo, chiaramente c'è la guardia Fabrizi sotto il nome di Totò e il ladro Totò sotto il nome di Fabrizi, ho parlato del film sul canale, ne ho parlato nello specifico, la prima puntata del mio format commedia italiana che va avanti come una tartaruga, molto, molto lentamente, ma sta per tornare, parleremo di una vita difficile, capolavoro di Dino Risi con Alberto Sordi, beh, Guardie e Ladri per me è il padre della commedia italiana, film meraviglioso, capolavoro di Monicelli e Steno che, devo dire che come coppia hanno sempre lavorato alla grande, poi singolarmente si sono viste le differenze anche di ambizione, sicuramente Monicelli di un altro livello, ma Steno grandissimo, regista soprattutto di generi diversi tra loro, come poi avrebbero fatto anche i figli Vanzina e poi tante commedie leggere e non solo di alto livello, ma Monicelli è assolutamente un maestro difficile da raggiungere, questo è un capolavoro che secondo me fa da spartiacque tra il neorealismo e la commedia italiana e parte tutto poi, è un film che giustamente è entrato nella storia del cinema di diritto a tutti gli effetti, e poi letto a tre piazze per la regia di Steno, commedia esilarante, proprio in stile Vanzina, Vanzina padre con Totò e Peppino, io lo amo questo film, c'è un grandissimo Aroldo Thieri che soprattutto inizialmente mi diverte tantissimo, nei panni di un avvocato e la storia appunto di questa donna che con il marito andato in guerra, che per vent'anni non si è fatto vivo, crede sia morto, allora si è risposata, ma lui si ripresenta, si è risposata con Peppino, ma si ripresenta Totò e allora Aroldo Thieri, innamorato di questa donna tra l'altro, molto bella, è l'avvocato che deve giustamente curare questa causa, ma ogni tre secondi le si avvicina, allora Peppino lo allontana, gelosissimo, quindi soprattutto inizio film lo trovo veramente bravissimo, poi caratterista importantissimo del nostro cinema e della nostra commedia, quindi il grande cinema di Totò, comprende anche Letto a tre piazze, che è un caldo assoluto per quanto mi riguarda, targato 1960, non l'ho detto, ricordati di me, di Muccino 2003, Guardi e Ladri, del 1951, ecco qua, apriamo quest'altro pacco che comprende, dovrebbe comprendere, poi siamo sotto al cielo, tre DVD, perfetto, non ci sono errori di consegna, grande Amazon, grande Amazon, ora facciamo volare la confezione vuota, beh insomma non ho preso molto bene la mira, ma tanto è vuota, ok, tre DVD, Totò, Peppino e la Dolce Vita, questo è un film geniale secondo me, la capacità a livello produttivo soprattutto, di sfruttare il grandissimo successo della Dolce Vita, film inimitabile di Federico Fellini del 1960, facendone subito una parodia che arriva al cinema nel 1961, beh davvero geniale la produzione in questo senso, con Totò che dice di essere diventato ricco, ma in realtà è semplicemente un fannullone, che sì, sta sempre a Via Veneto ma non c'ha una lira, Peppino è il sindaco di un piccolo paesino, quindi bigotto, toglie e fa togliere continuamente e costantemente i manifesti del film scabroso, la Dolce Vita di Fellini dai muri per le strade e poi alla fine si incontreranno e si metteranno anche a confronto le varie mentalità in questa Dolce Vita, a tutti gli effetti nella quale però si daranno poi tutte e due alla pazza gioia, soprattutto insieme a delle bellissime donne ce n'è una e qui si vede, si vede, magari poco ma si vede, bellissima donna che mi fa impazzire ragazzi una bellezza, anni 60, davvero incantevole, mai volgare, raffinatissima, non mi ricordo il nome dell'attrice che non è molto celebre ma davvero bellissima, una delle due donne che sono le prime che Totò e Peppino incontrano, ma tu sai l'inglese, beh si capisce, quindi Totò con il suo inglese cerca di comunicare con queste due bellissime giovani ragazze e poi un altro film, questo era il 61, andiamo al 1963, chi di voi conosce questo film alzi la mano, scommetto che abbiate tutte le mani basse, tranne i veri cultori, parliamo del film Il Comandante di Paolo Eusch, scritto dal grandissimo Rodolfo Soneco, il sceneggiatore di fiducia di Alberto Sordi dei film con Albertone, e beh un Totò pazzesco, forse la sua più grande interpretazione, bravissimo Totò, interpreta un comandante, un grande lavoratore, un uomo che ha dato tutto per il suo lavoro, per la sua carriera e che però è arrivato al momento della pensione, in pensione però non ci riesce ad andare, e questo film quindi dovrà fare i conti anche con la malinconia del tempo che passa e delle cose, delle abitudini di vita che cambiano. Questo film, che arriva tra l'altro con un Totò ormai quasi cieco completamente, che è veramente straordinario, è un'interpretazione sorprendente, soltanto se non lo si conosce a fondo, perché definire Totò un comico è da stupidi o meglio, significa non conoscerlo, per cui chi conosce Totò aveva già visto delle sue belle interpretazioni drammatiche, Yvonne Lanouille, se penso anche a Risate di Gioia di Monicelli, ma lo stesso Guardi e Ladri, soprattutto nel finale e tante altre prove, i soliti ignoti, non è un'interpretazione poi così leggera, si ride sì, ma c'è sempre tanta malinconia, questo è un film drammatico, è una commedia a sfondo drammatico, va bene, però c'è tanto dramma, e Totò è pazzesco, e questo film mi emoziona doppiamente non solo per la storia, per quanto è bello e soprattutto per Totò, ma anche perché mi ricorda tanto mio nonno, che lavora ancora, ha quasi 90 anni e lavora con tutti gli acciacchi del caso, ed è per me un eroe, e quando però lo vedo e deve stare a casa magari un giorno di più, e soprattutto l'età non consente di lavorare ogni giorno, ore e ore, come se fosse ancora giovane, beh, mi ricorda tanto Il Comandante, mi sarebbe piaciuto vedere il film con lui, ma non c'è stata ancora occasione, chissà, non so se lui l'abbia visto, perché è un grandissimo fan di Totò, ma sapete com'è? Il Comandante non lo conosce nessuno, come tanti grandi film che invece meriterebbero molto di più, e nella mia collezione TV di uscito da poco non poteva assolutamente mancare, e concludiamo con un film del 1958 che è Totò, Peppino e i fuorilegge, film molto divertente, c'è anche la grande Titina di Filippo, la scena del pranzo è veramente divertentissima, poi Peppino e Titina vicini sono sempre una meraviglia, e li abbiamo rivisti tanto anche in Quirido io, di Martoni, Fratelli di Filippo, di Rubini, abbiamo parlato di Top Ten, tra poco arriverà la live io, Giorgio e Nico, ragazzi, un po' di ritardo ma arriverà, e mi fai certe cose, ma forse il mangiare è solo per te, quindi veramente scene divertentissime, avrei voluto acquistare Totò, Peppino e la mala femmina, ma non l'ho trovato, ma arriverà, film che in realtà non è che abbia tanto di più di Totò, Peppino e i fuorilegge, guardate anche Titina, lì si vede con Totò e Peppino, o di altre commedie passate alla storia, però ci sono quelle due scene che veramente innalzano il film, lo rendono unico, chiaramente la scena della lettera, la scena più divertente e geniale che abbia mai visto, di improvisazione, di spontaneità, di naturalezza e trasparenza, e d'intesa tra due grandissimi attori come Totò e Peppino, e poi la scena in piazza con il vigile milanese, però Totò, Peppino e i fuorilegge è veramente molto molto divertente, anche Franco Interlenghi, Dorian Gray, Memmo, un caro tenuto, quindi grandi caratteristiche, insomma ragazzi questi erano i miei acquisti, intanto ringrazio ancora Danilone per ricordati di me, e poi, e poi, eccoli qua. Il dvd che ho acquistato, ricapitoliamo dalla fine, Totò, Peppino e i fuorilegge, 1958, Il Comandante, 1963, con un Totò quasi cieco, stanco, ma straordinario, forse la sua più grande prova, Totò, Peppino e la dolce vita, geniale produzione, 1961, Letto a tre piazze, 1960, rido come un pazzo ogni volta, Imiuria, oh scusate a poca mi sono distrutto, ma è questa Giulia, no, Imiuria è il latino, pensavo che era siciliano, e Guardie e ladri di Mario Monicelli Esteno, capolavoro assoluto, 1951, ne ho parlato nel format con Meglia l'Italiana, che tornerà a breve con Una vita difficile di Dino Risi. Ciao a tutti e sempre, 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 viva il cinema italiano. Ciao a tutti e sempre, 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 sempre